Grazie a tutti e aveva fatto 2-3 gol, clamorosi e aveva fatto gol a Ninaya e io dico cavolo, a lui gli sta cambiando la vita avevo questo tarlo nella testa e Ninaya fa un gran gol e gli sta cambiando la vita Al novantesimo l'unico lancio che Simone Perrotta, io ricordo sempre che ha fatto nella sua vita ma ha fatto un lancio bellissimo, meraviglioso Ho agganciato questa palla di tacco che poi io l'ho rifatto con te in Ander 21 identica Ma la facevi spesso? Esatto Ho fatto un grande aggancio, panuce blanche venivano in velocità, ho buttato la palla in me e dico o mi procuro il rigore, se non mi prendono faccio gol e ho fatto un gran gol Il rigore vanno sul destro gol fare il vantaggio l'incredibile difesa, quella dell'Inter sorprende tutti i cassati Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!